Qui non c'è un coordinatore, non c'è un capo, non c'è un responsabile. Tutto è nato in modo spontaneo. La solidarietà qui è contagiosa. Quello che vedete è gestito da volontari, cittadini viennesi di ogni età, che tengono in piedi questo centro d'accoglienza allestito nel sottopassaggio della stazione Nord. E in qualsiasi ora del giorno e della notte c'è chi porta medicine, cibo, indumenti. Barbara, una delle volontarie, ci spiega che insieme ad altri viennesi ha creato un sito internet dove scrivono quello di cui c'è bisogno. Servono pannolini, giocattoli, nel giro di mezz'ora arriva tutto. All'interno della stazione i viennesi sono riusciti ad allestire una mensa, un asilo, un dormitorio con 2000 posti letto. Qui la politica non c'entra nulla, ci spiega questo ragazzo, 21 anni, studente di ingegneria. Si occupa, insieme ad altri compagni d'università, della pulizia del sottopassaggio. Lo fanno, ci dicono, semplicemente perché lo sentono come un dovere morale. Non ce la fanno a restare indifferenti. Sono cilena. Questa donna, la dottoressa Cecilia Rarkontos, è la responsabile dell'ospedale da campo. È cilena, arrivata in Austria 40 anni fa come rifugiata politica, in fuga dal regime di Pinochet. Senza pensarci due volte, ha preso le ferie ed ha allestito, insieme ad altri colleghi, questo pronto soccorso. Questa mattina ha rianimato un bimbo kurdo in crisi respiratoria. E poi c'è Linda, appena 19enne, anche lei volontaria. È di origine albanese, offre una bevanda calda ai profughi siriani. Con gli occhi sorridenti ci dice che non sa descrivere l'emozione che prova. È un sentimento bellissimo. E poi ci sono gli anziani, tanti, che portano di tutto. Leica è il nome di questa signora che ha saputo dalla televisione che c'era bisogno di medicine. Ci dice, oggi è il quarto viaggio che faccio. Torno a casa, che sono stanca. E nel frattempo arriva una giovane coppia con un bimbo appena nato. Ho saputo che c'era bisogno di coperte. Noi a casa ne abbiamo tante. Non potevamo restare indifferenti. We came to help.